bella a tutti ragazzi sono Republic of Video Games e siamo nel terzo episodio di Napoleon Total War bene, allora vediamo un po' gli obiettivi di conquistare Clagenfurt va bene, va benissimo allora va bene velocizzo Piemonte e attacchiamo va bella faccia e farò video anche per Xbox voi consigliatemi anche qualcosa ne so, non deve essere per forza una telecamera può esserci anche qualcos'altro vabbè, giusto un po' il generale questo qui lo mettiamo qui poi i cannoni che non è sempre meglio metterli il più in alto possibile alias qui sarebbe quindi faccio così poi poi questa cosa qui qui è buono questo posto hanno messo delle minne qui si può partire il canone è pronto lo mettiamo qui smontare e sparare il generale proprio è un po' per ammettare quanto vuole un altro po' bell'era impediati qui ho abbassato un po' il volume degli effetti così sentite meglio la mia voce ecco qua ora potete fare la mitraille a 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 i uomini sono stanchi signore devono riposare a 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 non bisogna aspettare una battaglia piuttosto lunghe a 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 una una delle nostre unità ha esaurito le munizioni signore a a a a a a a a a i nostri uomini sono in fuga signore a 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 xbox però devo prima farmi una telecamera voi vedete consigliatemi se oltre alla telecamera c'è anche oltre alla telecamera c'è anche qualche altro modo buono per registrare magari non costi troppo però da 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 Gli uomini sono stanchi, signore, devono riposare. Che bella cosa è, ora è subito da attaccare. No, no, no. I nostri uomini sono in fuga, signore Ho vinto, finalmente 20 minuti di battaglia 20 minuti di battaglia Ho vinto, ho vinto, ho vinto Grazie. Dovamo andare in più Quest'esercito però eh Vediamo un po' Questi quanti sono? Pochi Questi Pochi Vabbè Salviamo Mezz'ora Vediamo un po' Salvato? Sì E conclude qui Ciao ragazzi Ciao